Siamo arrivati a un nuovo video ASMR, questo è l'ASMR, lo slime superfluo che ho fatto poco fa, adesso sono qua le mani sporche che appunto l'ho fatto poco fa per registrare questo video, attivare l'ASMR Grazie a tutti Ciuffo di Panda Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale, ciao!